A Pavona cantieri aperti si lavora a ritmo sostenuto per consegnare agli abitanti dei castelli romani entro marzo 2010 un serbatoio dalla capacità di mille metri cubi che raccoglierà l'acqua potabile proveniente dall'acquedotto romano. A questo si aggiungeranno anche entro il prossimo aprile il serbatoio I Colli nel comune di Albano e 12 chilometri di condotte che metteranno in collegamento i due nuovi centri idrici con quelli già esistenti in zona. Con queste opere la provincia affronta l'emergenza idrica nell'area dei castelli romani un problema che negli ultimi anni è enormemente cresciuto secondo l'assessore al territorio e l'ambiente Michele Civita a causa della siccità dell'abbassamento delle falde acquifere e dell'aumento della popolazione. Sono primi interventi di un piano investimenti molto importante che di circa 320 milioni di euro che nei prossimi tre anni credo farà bene alla qualità della nostra vita, la qualità dell'ambiente e anche perché no alla nostra economia che tanto ha bisogno di cantieri e di buoni lavori come questi.